Loro sono l'Italia che odia, noi siamo l'Italia che ama. Possono morire, il crocifisso resterà in tutte le aule della scuola, tutte le aule pubbliche, possono morire, possono morire, loro e quei figli organismi internazionali se non condano nulla. Loro sono l'Italia che odia, noi siamo l'Italia che ama. Questa è lì di merda e lo dico alla sinistra sindacale, lo dico alla sinistra politica, lo dico alla sinistra culturale, a quella per bene, a quella per male vadano pure a morire ammazzati. Loro sono l'Italia che odia, noi siamo l'Italia che ama. Ora, l'Italia che ama, l'Italia che ama. Allora, nella scuola ristitura HQ, ecco la scuola del fronteo. Loro sono l'Italia che odia, noi siamo l'Italia che ama. Dobbiamo finire parlando di mafia, io se trovo però quelli che hanno fatto 9 serie della piovra e quelli che scrivono i libri sulla mafia, che vanno in giro in tutto il mondo a farci fare così bella figura, giuro gli strozzo. Loro sono l'Italia. 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 Loro sono l'Italia.